Siamo pronti per il primo pezzo di questa nuova puntata di TAC e tutta un'altra comicità che andiamo sul palco, please on stage, Rita Etna! Io sono Rita e sono qui essenzialmente per lamentarmi. Allora, io mi vorrei lamentare del fatto che oggi non ci si può più lamentare di niente. Vi faccio un esempio. Avete avuto una giornata di merda. Andate da un vostro amico a raccontargliela e vi sentite rispondere? Ma sì, dai, in fondo c'è chi sta peggio. Ma che cos'è? Il sette e mezzo della sfiga? Non lo so, il tre sette della tristezza, la Champions League della depressione. Cioè, per fare un esempio è ancora meglio, no? Per esempio, guarda, sono depressa, il fidanzato mi ha lasciato. E vabbè, pensa che, non lo so, potresti avere perso il lavoro. Ok, allora, sono depressa, il fidanzato mi ha lasciato e ho perso il lavoro. E vabbè, pensa che c'è chi ha una malattia grave. Ok, va bene. Allora, guarda, sono depressa, il fidanzato mi ha lasciato, ho perso il lavoro e ho una malattia grave. Eh, vabbè, ma pensa che c'è in Africa gente che muore di fame. Allora, senti questa. Sono depressa, sono una bambina afghana, schiava dei talebani, malata di AIDS, costretta a combattere con il fucile strisciando perché ho perso le gambe quando sono saltata su una mina anti-uomo che esplosa quando mi sono chinata a raccogliere un rarissimo esemplare di Barbie Ramadan. Eeeh, vabbè, pensa che potevi avere perso le braccia e adesso dovevi sparare con i piedi. Cioè, tra l'altro ben ti sta perché Barbie Ramadan è l'anacronistica espressione di una cultura maschilista e ci allontana dall'obiettivo supremo che è distruggere il patriarcato. Cioè, capite che io con certa gente non vincerò mai, è impossibile vincere contro certe persone perché mi diranno sempre che i miei sono problemi da primo mondo. Eeeh, quindi non mi posso lamentare, no? Eh, certo. Per ribadire questo concetto una mia collega mi ha addirittura regalato un calendario motivazionale. Che cos'è? Uno di quegli oggettini che tu tieni sulla scrivania e che ogni mattina ti regalano una frase per iniziare la giornata con il sorriso. Lo leggo tutte le mattine. Da quando ce l'ho, ho iniziato a drogarmi. Per la prima volta in quasi 40 anni, tra l'altro, e tra le varie cose, essere sotto effetto di acidi è forse l'unico modo per poter capire quello che c'è scritto dentro effettivamente. Perché ci sono scritte delle cose un po' strane. Per esempio, tutte le cose sono difficili prima di diventare facili. Come uno stupro, ad esempio. Oppure anche cose un po' più complesse, tipo con il talento si vince la partita, ma è con il gioco di squadra che si vince il campionato. Sì, e con i soldi si vengono 38 scudetti, per esempio. Però in assoluto la mia preferita di tutte è questa qui. Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia, ma devi sempre andare avanti. E questa l'ha scritta evidentemente la bambina afghana. Non vedo altre soluzioni. Capite che in questo mondo fatto di potenza e di resilienza, io come faccio a non avere un senso di ansia incredibile? Tra altre cose, i social media. Cioè, è incredibile. Ogni volta che apri Instagram, cosa ti trovi? Gente che fa 18 minuti di plank sui pollici o la verticale sul naso. Cioè, io non posso non sentirmi inadeguata in questo mondo. Capite? E quindi cosa faccio per cercare di sentirmi meno inadeguata? Mi disinstallo le app, no? Anche perché altrimenti ci andrei a controllare dentro che cosa succede ogni mezz'ora come per controllare la cottura del ragù. Con la differenza che se apro Instagram mi sale il senso di inadeguatezza. Se vado a controllare il ragù, al massimo ci azzuppo il pane e mi sale il colesterolo. Però ha anche il senso di appagamento. Quindi forse è meglio. Ma detto ciò, come faccio a capire quando è il momento di disinstallarmi le app? In realtà è facilissimo. È molto semplice. È un'equazione matematica. Prendo il tempo trascorso sui social media, fratto il tempo trascorso sul cesso a fare la cacca. Ora, se il risultato dell'equazione è superiore a uno, bene, vuol dire che sto dedicando ai social media un tempo residuale della mia vita. Ma se il risultato dell'equazione è inferiore a uno, vuol dire che passo più tempo sui social che sul cesso. E quindi forse chi fa cagare sono io. Grazie. Yowee!